Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi raga vi voglio spiegare come faccio a mantenere i capelli così sani nonostante tutto ciò che gli combino ogni volta, poverini. Una delle domande che mi fate più spesso, e seriamente me la fanno almeno una volta a settimana raga, è appunto Ma che prodotti usi? Come fai a mantenere i capelli sani? Qual è la tua hair care routine? Quindi eccoci qui per svelarvi tutti i miei segreti. In realtà ho deciso di fare questo video perché appunto siccome questa domanda me la fate spesso e la risposta non è mai breve perché comunque io utilizzo tanti prodotti e ho tante sempre premesse da fare, che rispondere ogni volta ad ogni singolo messaggio su Instagram o nei commenti eccetera diventa veramente lungo. Quindi ho detto, boh, visto che è un argomento che interessa faccio un bel video dove spiego tutto del minimo dettaglio così alla prossima volta che mi faranno questa domanda ci ho un mando il link del video e ciao. Partiamo subito. I consigli che vi darò oggi, che poi non è che proprio sono dei consigli, è più un cosa faccio io, e questo non vuol dire che se funziona su di me funziona per forza anche su di voi, sia chiaro. Io dico semplicemente quello che faccio io. Saranno cose che io faccio sia per mantenere i miei capelli sani ma anche diciamo per riuscire a mantenere più a lungo il colore sui miei capelli. Partiamo da dei punti fondamentali che spesso le persone non prendono mai in considerazione. Quando dovete fare dei trattamenti ai vostri capelli che sono decolorazioni, tinte, cose del genere, dovete sempre pensare prima a che tipo di capello avete. Perché comunque ogni capello reagisce in modo diverso. Non è che se io faccio una decolorazione e non mi si rovinano i capelli, allora anche a Tizia e a Kaia non si rovineranno i capelli. Dipende da che capello abbiamo. Io sono molto fortunata perché ho un capello spessissimo e fortissimo, raga. I miei capelli potrebbero anche farsi una vacanza a Chernobyl che non succederebbe nulla. Quindi io parto comunque da una base che è molto a mio favore. Se avete dei capelli molto delicati, magari crespi, cose del genere, siete un pochettino più svantaggiati. Ecco io ho anche dei capelli molto grassi che anche questo aiuta perché quando fate decorazioni o cose del genere il capello oltre a rovinarsi logicamente si secca. E avere un capello grasso logicamente aiuta a tenerlo un pochettino più nutrito. Quindi ecco prima di ogni cosa analizzate il vostro capello, vedete com'è fatto, cercate un po' di capire se è un capello che può affrontare trattamenti come decorazioni o cose del genere oppure no. E poi una volta che avrete le risposte, deciderete un po' come procedere. Un'altra cosa molto importante che faccio è lavarmi i capelli il meno possibile. Cioè nel senso li lavo ovviamente quando sono sporchi, ma soltanto quando è necessario. Infatti io se riesco li lavo una volta a settimana. Al massimo li lavo due volte a settimana ma non di più. Poi ovvio se sono sporchi lerci non è che non me li lavo perché oddio li ho già lavati due volte. Ovvio che li lavo. Però generalmente non sopro le due volte a settimana. Questo perché lavare i capelli troppo spesso fa malissimo raga, è una delle cose peggiori che possiate fare ai vostri capelli. E per assurdo più li lavate più si sporcano perché comunque la cute produce il sebo, che è ciò che poi va a sporcare i vostri capelli. Ma il sebo ha una funzione, una funzione di protezione della cute del capello e di nutrimento del capello. Quindi se voi continuate a lavare questo sebo, la cute percepisce che il sebo non c'è più e continua a produrne. Quindi più li lavate e più si sporcano. Può sembrare un controsenso ma è così. Io è vero ho dei capelli grassi, però il fatto che continuo a fare decorazioni e cose del genere tende un po' a seccarli. Quindi riesco comunque a riuscire a lavarli una o due volte a settimana, non di più. Un'altra cosa che faccio, e poi giuro che passiamo proprio all'analisi dei prodotti, è in estate lavarli con acqua fredda. In inverno non ce la faccio, cioè non ci provo neanche, assolutamente no, però in estate li lavo con acqua fredda. L'acqua fredda aiuta a mantenere più a lungo il colore ed è molto meno aggressiva sul tuo capello rispetto all'acqua bollente lavica che io utilizzo subitamente in inverno. Quindi questa era la grande premessa che volevo fare. Passiamo ai prodotti in sé. Io per lavarmi i capelli sotto la doccia utilizzo uno shampoo solido. Per chi non conoscesse gli shampoo solidi, sono fatti così, logicamente questo è un po' consumato. Quando l'ho comprato era molto più carino. Questo qui è di Lush, si chiama Coconut Rice Cake e io mi ci trovo da dio. Perché preferisco questo shampoo solido a quelli diciamo normali da supermercato? Uno perché sono plastic free, quindi l'ambiente sarà molto contento di questa scelta. Due perché durano molto più a lungo rispetto agli shampoo normali. E tre, ragazzi, sono pazzeschi. Io quando utilizzo gli shampoo normali da supermercato noto quasi come se mi seccassero un po' i capelli. Non lo so, non mi hanno mai soddisfatto. Non ho mai trovato quello shampoo che proprio mi soddisfacesse. Quando ho provato questo ho detto no, vabbè, cioè raga, è un prodotto dell'anno. Lush ha tantissime varietà di shampoo solidi adatti per ogni tipo di capelli, per ogni esigenza. Io ho scelto il Coconut Rice Cake perché era proprio quello che serviva a me. Ovvero per capelli spessi ma molto rovinati, molto trattati. Infatti all'interno di questo shampoo c'è crema e latte di cocco. E io quando utilizzo questo shampoo, raga, noto veramente una grossissima differenza. Al di là che il mio capello proprio risulta molto più nutrito. Quindi non secco, non ho quella sensazione di... Non lo so, come se mi stessi lavando con il detersivo dei piatti. E in più mi mantiene i capelli molto più puliti, più a lungo. Ed è al 100% naturale. Logicamente da Lush trovate tutti i prodotti cruelty free, vegan, naturalissimi. Quindi per dei capelli comunque molto trattati, molto rovinati. Questo secondo me è la scelta migliore. Perché appunto non andate a mettere cose chimiche, cose del genere. Soltanto un piccolo consiglio. Se utilizzate questi shampoo solidi, mi raccomando, ogni volta che finite di fare la doccia, non lasciatelo nella doccia. Anche se ha la scatolina, come in questo caso, non lasciatelo nella doccia. E soprattutto asciugatelo. Asciugate tutta la scatolina, il coperchio, lo shampoo stesso e poi chiudete e mettetelo da parte. Questo perché se rimane umido, e lo so per esperienza, perché una volta me lo sono dimenticata nella doccia, tende uno ad attaccarsi sul fondo della scatoletta e due a consumarsi. Proprio mentre nella scatola continua un po' a consumarsi e diventa tutto molliccio, non si rapprende più, rimane proprio una consistenza un po' strana. E rischiate insomma di mandare a quel paese 12 euro di shampoo. Se dovesse capitarvi, vi consiglio di fare come ho fatto io, ovvero toglierlo, asciugare, eccetera, eccetera, e poi lasciarlo vicino a una fonte di calore, come un termosifone, cosa del genere, per qualche giorno. E poi si riprende. Dopo lo shampoo, passo alla maschera per i capelli. Io non utilizzo il balsamo, perché appunto utilizzo una maschera, quindi non è necessario che utilizzi anche un balsamo. E attualmente sto utilizzando questa, ma sinceramente non ne ho una proprio particolare, che vado sempre su quella. Sto provando questa qui, onestamente mi ci trovo bene, però una cosa che devo imparare è leggere bene gli ingredienti, perché non avevo controllato se ci fossero silicone o cose del genere, non mi sembra. Però non sono una grande esperta, quindi dovrei informarmi un po' meglio. Io questa l'avevo presa abbastanza a caso, da acqua e sapone. Vorrei riuscire a trovare una maschera per capelli sempre plastic free, o comunque con plastica riciclata, cose del genere, perché questa non lo è. Però era quella che avevo trovato, costava poco, e sinceramente per il prezzo che ha, perché l'avevo pagata veramente poco, non ricordo il prezzo esatto, ma 2-3 euro, una cosa del genere, ed è veramente tanta, sono 500 ml. E dicevo, mi ci trovo molto bene, è una maschera all'olio d'argan. Ormai è praticamente finita, e adesso che l'ho finita non la ricomprerò, perché ne ho un'altra. Magari ve la vado a prendere, perché non l'ho portata così, ve la faccio vedere. Rieccomi, questa è la maschera che utilizzerò una volta finita quella. Questa l'avevo presa con la collaborazione con Cosmetics for Less, non so che marca sia, sinceramente l'avevo vista, mi serviva, e ho detto vabbè proviamola. E anche questa è all'olio d'argan, ma anche il Tsubaki Oil, che non ho idea di cosa sia. La proverò, e proverò a vedere se effettivamente trovo una differenza tra queste due. Poi ripeto, se troverò qualcosa di plastic free, sinceramente meglio. Quindi cosa faccio? Dopo aver lavato lo shampoo, strizzo un pochettino i capelli, ma non tanto, perché state attenti quando strizzate i capelli bagnati, umidi, perché rischiate di spezzarli. Quindi li strizzo un pochettino, giusto per togliere l'acqua in eccesso, e poi vado a prelevare un po' di maschera. Sinceramente io ne utilizzo un bel po', e ovviamente poi la metto sulle lunghezze. La lascio in posa per un bel po'. Diciamo che io solitamente faccio così, entro in doccia, e mi lavo subito i capelli. Così almeno la maschera ha il tempo di stare in posa per tutto il resto della doccia. Quindi lavo il corpo, eccetera, e poi alla fine di tutto risciacquo i capelli dalla maschera. E già mentre li risciacquo noto subito l'effetto della maschera. Sento che sono molto, molto, molto più morbidi. Una volta fatto questo, ristrizzo di nuovo i capelli, sempre molto delicatamente, e una volta che ho tolto un po' l'acqua in eccesso, esco dalla doccia, e avvolgo i capelli in un asciugamano. Faccio una sorta di turbante. Cerco di tenere quel turbante il più possibile, appunto perché voglio che l'asciugamano assorba più acqua possibile, in modo tale che io poi dopo non debba sfregare i capelli con l'asciugamano, che comunque non è una cosa che faccia molto bene i capelli. Dopo aver tenuto appunto un po' l'asciugamano in testa, lo tampono sui capelli, ecco cosa faccio. Non lo strofino, non faccio nulla di tutto ciò, semplicemente lo tampono man mano, sempre per riuscire ad assorbire più acqua possibile. Una volta fatto ciò, non li pettino. non pettinate mai i capelli quando sono tanto bagnati, tanto umidi, perché appunto, solito discorso, li spezzate. Quindi io cosa faccio? Inizio ad asciugarli un po' con il phon, così tranquillamente, senza pettinare, magari li districo un po' con le mani, con le dita, li muovo un po', però non faccio nulla di troppo aggressivo, quindi li asciugo un pochettino, e quando non sono ancora del tutto asciutti, ma non sono neanche bagnatissimi, sono un po' umidici, posso effettivamente iniziare a pettinarli. Parto dalle punte e man mano salgo, questo perché se partissi dalla cute, incontrerai tutti i nodi, e di nuovo torniamo a spezzarci tutti i capelli, quindi molto delicatamente, parto dalle punte, salgo sulle lunghezze, e poi vado sulle radici, e mi pettino i capelli così. Dopodiché passo ad applicare il prodotto fondamentale per la mia esistenza. Questo è il prodotto proprio che mi salva la vita. Sto parlando di crine tempestose. Questo prodotto di Lush logicamente è la svolta. Praticamente è una crema idratante per capelli, e all'interno latte d'avena, burri tropicali nutrienti, insomma tutte cose belle grasse. Infatti io la consiglio a chi veramente ha capelli tanto secchi, tanto disidratati, perché secondo me è molto molto grassa questa crema. Cosa faccio? Ne prelevo un po' e la metto sempre sulle lunghezze, la massaggio bene nei capelli, la faccio assorbire ben bene, e quando penso di averne messa abbastanza, anche perché io esagero sempre un pochino, bisognerebbe usarne di meno in teoria, posso passare alla fase successiva. So che alcuni di voi potranno dirmi ma non ha più senso se prima metti la crema e poi ti pettini, magari sia più senso, io mi trovo meglio a pettinare prima i capelli e poi a mettere la crema. Una volta fatto questo, comunque torno ad asciugarmi i capelli, quindi di nuovo col phon asciugo bene i capelli, e quando sono effettivamente ormai quasi del tutto asciutti, mi pettino i capelli mentre li asciugo. Questo lo faccio veramente soltanto alla fine di tutto, quando i capelli ormai sono praticamente asciutti. Ma non è finita qui, perché giunti a questo punto, con i capelli ormai del tutto asciutti, vado ad aggiungere un ultimo prodotto, perché i miei capelli saranno ancora molto gonfi e secondo me hanno bisogno ancora di un pochino di idratazione. Il prodotto che vado a mettere è questo qui, questi qui sono dei cristalli liquidi, che in realtà poi potrebbe essere qualsiasi olio per capelli, olio d'argana, non lo so, quello che volete. Io ho questo che me l'ha dato mia madre e sinceramente funziona bene, quindi intanto utilizzo questo. Quando finirà, solito discorso, se riesco a trovare un prodotto plastic free meglio, però in ogni caso penso che continuerò a utilizzare qualche olio, perché mi sembra che i miei capelli ne abbiano bisogno. Quindi cosa faccio? Utilizzo quattro pump, so che sono tanti, però vi assicuro che i miei capelli poi se lo assorbono tutto, e appunto vado sempre a metterlo sulle lunghezze per bene. Vi potrà sembrare a questo punto che i miei capelli rimangano un pochettino umidici, oliosi, non vi preoccupate, è tutto normale, perché poi comunque col passare delle ore i miei capelli assorbono tutto l'olio e tutte le creme che ho messo. Infatti io il 90% delle volte mi lavo i capelli, sempre la sera prima di andare a dormire, così appunto ho il tempo tutta la notte di far assorbire per bene tutti i prodotti che ho messo. A questo punto si conclude tutta la mia hair care routine che faccio normalmente quando mi lavo i capelli, e il giorno dopo quando mi sveglio i miei capelli sono così. Infatti tutto questo procedimento io l'ho fatto ieri sera e come potete notare gli oli ormai sono stati completamente assorbiti, i miei capelli non sono gonfi, non sono secchi, non sono crespi e sono super super sani nonostante tutto ciò che gli combino. Una cosa importante, in estate abolisco anche il phon, visto che comunque posso asciugare i capelli naturalmente, non vedo perché dovrei utilizzare il phon che comunque essendo una fonte di calore va sempre a rovinare i capelli. Però in inverno logicamente non posso farlo perché mi becco una broncopolmonite e quindi la utilizzo. Un'altra cosa importante, ho abolito del tutto la piastra. Una volta la utilizzavo, adesso non la utilizzo più. Sono anche fortunata perché quando asciugano normalmente diventano tutti mossi belli e quando li asciugo col phon diventano lisci, 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 quindi insomma non ho bisogno di piastra. Se potete abolire la piastra sarebbe un'ottima, ottima cosa per i vostri capelli perché è veramente distruttiva. Quindi raga, spero di essere stata chiara e di aver un po' celato qualche dubbio, dato qualche risposta, magari dato anche qualche consiglio. Se avete altri dubbi, altre domande a riguardo, voi comunque fatemelo nei commenti che io se ho le risposte, insomma, ve le darò. Io vi chiedo a questo punto di lasciare un bel like a questo video e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Scegliamo un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti e l'hashtag della fine potrebbe essere... Ce l'ho! Hashtag Raperonzolo. Dai! Hashtag Raperonzolo. Scrivetelo nei commenti. Penso di avervi detto tutto quindi non mi rimane altro che ricordarvi che in descrizione trovate il link per potermi seguire su Instagram, il link per potermi seguire su TikTok e il link per potermi offrire un caffè virtuale su Ko-fi. Io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti con me anche in questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Tan 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 Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Grazie.